Buongiorno a tutti signori, buon venerdì mattina in compagnia dell'amico e guida alpina di Bardonecchia Piero, Bertotto, Piero, eccolo qui. Siamo all'arrivo della via De Albertis, Mario De Albertis, che è venuto nel 1951, otto anni dopo Rivero che l'aveva completata continuando ancora più in su, qui sulla parete dei Militi. I remaggi davanti a noi, stupendi. Un saluto a tutti voi, guardate che bello strapiombo. A presto e buon venerdì. Ora ci caliamo giù.